Benvenuti su Ultime Notizie e Gossip Italia, tra pochi secondi scoprirai com'è oggi Denise Pipitone dopo la sua scomparsa. Quindi rimani fino alla fine. Sono trascorsi 18 lunghi anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la piccola bambina di soli 4 anni originaria di Mazzara del Vallo, una località siciliana. La tragica vicenda si è verificata il primo settembre 2004, quando le tracce della bambina si sono perse definitivamente. Piera Maggio, la madre di Denise, durante la presentazione del suo libro Denise per te con tutte le mie forze, ha rilasciato una lunga intervista a affari italiani dot it comma, svelando alcune rivelazioni scioccanti. Nonostante il passare degli anni, la madre non ha alcuna intenzione di arrendersi finché non sarà fatta luce in modo definitivo sulla scomparsa della figlia. Nell'intervista, Piera Maggio afferma con convinzione che Denise è viva fino a prova contraria, ma ribadisce l'importanza che lo Stato intervenga con l'istituzione di una commissione di inchiesta per evitare che la vicenda cada nel dimenticatoio.